Senti un po', Cinciulli, ma la conosci la storia del Milan? Certo, Livella, Maldini, Balessi, Mazzola? Mazzola? Questo qua mi convince proprio poco poco poco. Anche a me. Facciamoci l'inganno della Candreva. Bravo Silvio. Vai a prendere Candreva, tu intanto, Adriano. Sei scaltro come una faina. Bravo. Eh, dottore, Lì, Jackie Chan, venga, venga, si accomodi pure. Venga a scegliere il capitano del Milan. Mi raccomando, eh, deve essere italiano. Ragionier Cinciunciao, prego, si accomodi. Prima il capitano, poi il closing. Capitano Italiano. Mmm, a me piace tanto Candreva. Ah, perché Candreva sarebbe del Milan? Candreva è dell'Inter. Caro il mio bel ragioniere. Eh, stavo proprio dicendo che sarebbe caso di comprare Candreva. Faccio sempre confusione. Buonaventura, Candreva e... Dovrei andare a cambiare acqua a Biscione. Ma quale Biscione, Lucertolina? Pipino, il breve. Eh, volevo dire cacà, cacà Milan, forza Milan. E Cess è in alto a sinistra. Silvio, ci avevi proprio ragione, te. Tu è Schi, l'è un cinese della pinettina. Bravo. Eh, cosa n'è quella roba lì? Un papiro? L'avrà dimenticata Mao Tse-tung. Apri, apri. A Zhang Zhidong con affetto Pupi Zanetti. Zanetti, Zhang Zhidong. Ma chi l'è Zhang Zhidong? Zhang Zhidong è quel pirla che ha comprato l'Inter. Oh, signor. Adriano, a mali estremi, estremi rimedi. Lo vedi quel bucolì? Stanotte lo riempiamo. Vieni. Vai Silvio. Viva. Viva.